Tu ci sei mai stato? Ci siamo stati tutti. Cos'è successo lassù? Mi sono perso. E poi... Quella stanza buia. Cosa vuoli da me? Sto che sei ad un bivio. Non lasciarti sedurre da offerte di cui ignori la pericolosità. È tutto lì, quel che cerchi. Conoscere se stesso, conoscere la verità, può essere terribile. E svegliandomi piangevo per sognare ancora. Una melodia che mi ha rapito, incatenato. Un'entità per me... Irraggiungibile. Imponderabile. Chi siete? Io sono te. E tu sei me. Grazie a tutti